questa è una live improvvisata in quanto in quanto abbiamo smadronato io e signor antoni per cercare di giocare un po insieme in multiplayer pga tour che i 21 buonasera qui sperando che va tutto bene ci facciamo questa partita e poi ne approfittiamo io non doveva andare live oggi perché ci vado domani però l'ho approfittato e ci andiamo adesso ho preso proprio per i capelli l'ho preso e io l'ho buttata dove nella buca vediamo mi dice perfetto ma non è vero un cazzo va bene stai prendendo la fallita no si chiama vabbè perché puoi fare anche la prova e tiro la madonna e tiro fuori ovviamente perché siamo arrivati qua di bambocci tanto devo vedere come si fa ok allora hai detto levetta con la y ti da ti può far spostare in modo che puoi centrare la con le precette in alto e basso ti scegli il tipo di mazza che vuoi usare e adesso a sinistra fai i spostamenti per andare la mazza per usare quale scusano capito le precette ti puoi selezionare un tipo di legno che vuoi però qua è più in lega di drive che la distanza abbastanza lunga ok che dare il colpo così capito che bravo quando è che adesso vai in buco quando è che adesso vai in buco sì ti preoccupare è bellino però è bello ah con lb quando toccherà te facendo su con la levetta l ed r praticamente ti va a fare il tipo di effetto nel caso c'è una curva tu puoi fare la palla ad effetti in modo che va il terreno puoi decidere l'angolazione e deve prendere la palla con la levetta r insomma devo fare parecchie cose non c'è capito un cazzo ci so vabbè attenzione bello vai vai addio ovviamente se il vento va a destra proviamo il vento a sinistra se ci può stare in modo che c'è la pendenza non il vento scusa allora ah ecco la ecco la ti da la traiettoria prima di girare in modo che puoi vedere ovviamente solo una volta la puoi utilizzare mentre con la x togli la bandierina nel caso ti dava fastidio e che a me molte volte è successo che andava a sbattere vicino al bandierino è buono ah è fatto bene mai prima mi si era spostato e ora mi si sposta più con la levetta ma non è giusto eh è giusto andiamo eh vai vai ok ok troppo poco tu puoi andare sul bianco e poi non ce l'ho non avrai paura si si no fangulo addio eh io non lo so eh peccato peccato eh fangolo ti 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 eh ho fatto un 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 tiro prima eh sprecato un mi sono pi reggita addosso Ahia, sbam! Bello! Vai 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 vai! 300 yard, buono! Questo è un Zunieli, ho fatto 364 yard. Senza sapere tutte queste cose, l'angolazione eccetera, questo lo so pure dopo. La cazza di cane! Questo in tre e più persone sarebbe fantastico. Bella? Buca? No! Com'è? Brava! Vai vai, di nuovo tu! Allora, tirava di qua, quindi bene. Ragazzi, sposto un attimo la cam. And they're going with the pitching wedge. Oh! Bella! Perfetto. Bella! Bella! Ehm... Non lo so, eh? Ehm... Mmm... Mmm... Poteva andare meglio. Che... Che tiro di merda è venuto! Non lo so. Non lo so, guarda, non lo so che tiro. Dio signore! Io qua mi sa che devo mettermi un po' così. Uh... 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 Allora, vediamola. Troppo forte. Troppo forte! Troppo forte! Troppo forte! Troppo forte! Troppo forte! E questo sarà un par per lui, se la sangra. DAI Ma dai Ma dai Ma dai Friend, we, we, friend Ma dai Ah, l'anime solita Fanculo Non lo so, scipro non mi fa neanche tirare io dico che riesco a sbagliare anche di chi non che cazzo è piccato quindi te ancora di un colpo sei in vantaggio giusto io faccio così il colpo di merda mai dato è con rb se premi lb appare sulla destra proibito che proibito conferma se tu premi lb se tu la testa appare rl puoi spostarti come vuoi te lo puoi dare un effetto ti puoi dare un tipo di angolazione diversa diciamo già meglio che della tua ah sì indubbiamente guarda io invece volevo fare un'altra cosa un altro colpo di mamma bella bello bello è impossibile bello 56 a 2 si fallo proprio a palonetta a palombello bella bello vediamo se ci riesco un po' improponibile camazza io ci provo per il boogie 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 man and i am my boogie man dam 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 parco due mamma mia oh ma ancora io così così qua puoi puoi andare in vantaggio tu di tre bug ricorda che con la stand premuti già la traiettoria eh bravo bravo adesso inizi siamo quattro buche su diciotto quindi è abbastanza lungo pinta io non riesco ad essere preciso come te hai visto il tiro di prima come è andato perché vai che mi scappa e non riesco a fare con la metà oggi proprio di sto prendendo la mano eh comunque si alla fine si bellino molto carino si visto questo fa questo fa questo fa ti riagirà ma non non lo so il perché eppure vado dritto per dritto eh perché te forse lo giri eh ma mi se vado dritto mi scappa il problema è quello cioè te quando vai indietro e poi torni avanti eh lo devi accompagnare non è che lo devi lasciare di scatto capito ah ok prova un po' ok ok eh parte l'albero vabbè quello è normale mi sa che tocca solo a me ah no tocca c'è c'è la buca lì che mi dà una noia ma eh isse porca vacca ma ti rucco fatto poccia mi zanna io vabbè mi coglio mi coglio ma che senso mi coglio eh vabbè perlomeno sei ti sei levato di lì eh lo so gofredo gofredo so gofredo so so gofredo lo so ah io sempre io sempre lei non ci non ci non ci non ci non ci no no ah ah a meno ti gioca tu io husam secondo vado vado ora io lì come devo fa il rosso il rosso del rosso è abbastanza combi ball io posso fare il par sì ma par che che sei in vant che sei in svantaggio di tutti di tre il cuore io ho io ho te vido da comune se vuole entrare in partita magari la te la facciamo uno contro uno contro uno non so proprio così eh debotto mamma mia bella mamma mia ah del zebstone ha creato ah vero ha creato del zebstone ma quanto siamo perché ho perso eh non lo sai che non ce lo dice qui no sei ancora in vantaggio tu sei ancora in vantaggio infatti ti fanno abbattere prima te io devo ancora recuperare tre bug o due no due mi sembra ma dov'è hai visto la montagnella la eh tiro ragazzi spaffete macoyons come dicono in america macoyons si si mi dicono proprio così siamo sicuri a cento per cento macoy macoy 180 dollari e notte più lex macoy guarda lì attenzione diretto di culo mamma mia grande dai 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 che siamo in palle guarda che cazzo dai san gennaro ma vaffan guarda qua è facile questo è trattato eh beh Dex attenzione porca puttana compenma compenma oh adesso si e si va sei rifassato davanti ti vedi ho fatto la stessa cosa di prima ora ti conosco bene mi chiedevo vediamo come questo t-shot fares per lui ho fatto esattamente come mi hai detto è dritto per dritto solo che si sposta non capire perché devo vedere se ci sono delle cose da mettere qui in modo che ai lati in modo che perché ho difficoltà proprio con il pad potevano mettere la funzione l'ho detto in un'altra che potevi semplicemente usare le precette almeno per chi non è in grado di cioè quello se imposti se imposti io credo che sia un discorso impostazione di tasti ah si può essere ma se io faccio una cosa del genere questo è perfetto eh minchia complimenti no ma che approccio è approccio il figlio del gran croce esatto figlio del puto figlio del gran croce pecoio ooooh mi stavo a combinare signora Antani maledetto il cane ladro mi stavo a combinare signora Antani io ci provo attenzione numero eee wow last christmas give you my heart wow puoi fare booghe christini davina sto cazzo pende sto campo di merda last christmas di christina davina a un culo eh cagare vai 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 cagare vai c'è c'è perché come cazzo hai guardato hai sbagliato perché che cazzo cioè non dicono parole non ha metti il cazzo metti il cazzo vieni porca ooooh guarda lì sì visto è proibito poteva uscire il mucassone dall'assunto vabbè guarda era perfetto bastava che usciva un po' fuori anche lei però no come no 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 perfetto perfetto devo dire maria perfetto vatti ti fa ritirate lo so perché è un cagamento di cazzo mere su pam pam eeeh oi cadrò macchina a casa di qualcuno ma porca puttana ma come fossi che c'è oh ammine questo è ok off the tea ehi good riccardo fiore oh ma è rotto olio due due porca di una troppa oi attenzione si gran croce ma state zitto commentato vada lì lui c'ha uno due tre possibilità bella bella attenzione bella ma devi andare in guai per i tiri ravvicinati il putter si porca putter porca putter occhio porco ok questo è per il double bogey ma che il double bogey bogey di solido bogey 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 ragazzi c'ho da sentarmi in attimo vai vai questo putt è andato perfetto questo va fare bene e se questo si 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 bravo arrivo arrivo prima però c'ho da mettere come mai vedi da sempre te ah non lo so io aspetta allora metto metti metti in pausa dai aspetta metti in cazzo si si vai senti io ho fatto un cambio ho spostato lo swing il tiro sulla retta destra magari mi viene più facile può provare oh sto provando il prossimo video vediamo un po vai vai oh com'è brutta sta no è bella dai no 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 vai così non si poteva chiedere di meglio buonasera buonasera salve caro io invece faccio ah così ci provo eh bella non so dove questo va finire fuori ma bella si vado meglio col destro allora dai però so è perché il sinistro è una chiavita non lo so attenzione parabolica lo cazzo hai tirato eh cazzo di cane cazzo di cane ho tirato vai vai dio santo dio questa è la seconda on the eighth quella madonna comunque sto vedendo la serie di quel taleale di barfand e tanta roba quel gioco eh barn binder ma ho capito cosa devi fare l'avevo vista anch'io ma l'ho ci sono stato dietro poco seguendo solo quella ciao eccolo lì eccolo lì eccolo là ma presenti i cacciatori di affari quella roba che facciano su dimax la roba ah sì ok ah cacciati a fare eh tipo devi andare nei cosi per illustrar qualsiasi cosa e rivenderla quelle devi fare e c'è anche le aste io ho visto così su gira dove cazzo vai comunque c'è la che se non lo vuoi provare la abbiamo gratis sì sì no io ho visto qualche volta quello là dei container dove tu acquisti container però non sai che cazzo c'è dentro quello lì eh comunque acquisti container anche sì vabbè poi ci sono quelli là dei galassi che non sai sì c'è anche quella cosa lì nel vuoto ah ok ah comunque bravi con la freccetta sinistra e testa vuoi riposizionarti come vuoi io che palle sta buca coglioni ma io posso entrare anche a partire no più di due no mi sembra no no tu puoi entrare sì ma più di due non era fino a due mi sembra no 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 un attimo solo che definiamo appena questa qui allora vediamo un po' e non rischiare la il cuffio vabbè ho stra dopo questa buca qui ho straperso non disperare hai visto meno? io ho capito ma sono indietro di sei colpi cinque colpi sei colpi non lo so che cosa sia non disperare questa è la perfetta eh meno male che era perfetta il tiro perfetto del sacer qua vabbè va di capomastro non cincischi ferro 7 ti con chi hai tirato non lo so sinceramente non lo so ho tirato non è il drive forse è ferro 7 e si perché ha fatto attivo ma ti fa modificare un po' io sto vedendo il culo di una signorina mi scusi ma metti la freccia in basso la freccia in basso ti sposti sulla mia stavo vedendo il culo di una su di spalle vabbè guarda lì ti va prima io prima tu no prima io ok ok vati vati ricordi che con la hit togli la bandiera bravo siamo alla decima vati bambocci io non ho capito il criterio che sta allora provo a farlo a effetto cioè quando tiro devo devo andare a destra o a sinistra quando rilascio no non lo pare premi lb premi premuto lb a destra ti appare la l e la l con la l a destra a sinistra ti fa il crefetto capito e con l'analogico destro puoi decidere quale angolo dare alla palla bella vabbè non è stato un tiro piuttosto blando eh volendo blando vediamo io che cazzo vuoi scappare perché voglio stupire ok prima di stupire fammi ci i cazzi nostri facciamo vedere eh ma questo sarà un colpo di merda io tanto io santo dove è uscito questo viaggia la palla 237 quasi vicini no possiamo stare vicini vicini no non ti voglio fattenna attenzione attenzione la fai in una buca a effetto però e fuori fuori no on the pitch hit the pitch get in pitch get in pitch ok io ci provo ai cristini divini che cazzo stava combinato voglio i figli del nostro campo di merda eh sì perché la tu sia la madoshka guarda lì per quanto catuzia cane era un vantaggio di un colpo io che c'è la prego lo sbaglio no no mi sbaglio era dritto per dirlo rock classic voglio fare i tiktok ti va tu oh questa è una bella diretta diretto si per per non pensione e se ne va in diretto cristi guardali ho dato poco effetto perchè se no era dritto per dirlo attenzione eh ma faccio una figura di merda come albero albero e invece te da una parte io da vell'altra no guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì io eh beh questo è lungo dai questo è culo caro mio il suo è classe caro caro il mio cofionazzo che madonna dai ti arrivo ragazzi devo andare a cena va bene però dottor stavo avendo andando fuori cioè vabbè comunque ragazzi tanta roba devo dire io devo io abbandono va bene ciao Grazie a tutti.